Sono un po' incassato, sono serenamente, sorridentemente, pacificamente. Ma una fatica affettivamente, impossibilmente, involontariamente, qualunque questi straccioni, cazzo io. Perché tutto mi sarei aspettato nella vita, fuorché di entrare da imputato in un tribunale sentendomi richiedere sei anni di galera, e quella è galera vera, eh. Sono un po' incassato. Già, sì, lo so, io non guardo la televisione italiana, però, purtroppo, a volte, attraverso internet, la televisione italiana ti raggiunge lo stesso. Quindi, perdonatemi, cari amici, se oggi ho aperto così, ma è stato più forte di me. Poi, lo sapete che non sono più un giovanotto, e fra l'altro sono anche del sud Italia, Quindi, non ho la memoria corta come lui o il suo gruppo vorrebbero far credere che tutti gli italiani hanno. Io non dimentico i primi giorni della Lega, le sue affermazioni, il prima, il durante e il dopo. Quindi, questa è la mia personalissima opinione. Potete dirmi tutto quello che volete, ma, no, questo personaggio non è un patriota. Insomma, se lui è un patriota, Samantha Cristoforetti è una terra piattista. Quindi, chiuso questo siparietto tipico della commedia all'italiana, eccovi alcuni aggiornamenti dal fronte ucraino. Ringrazio MayaCosk73 per gli ultimi puntuali aggiornamenti sulla mappa. Ci sono alcune notizie buone e altre meno buone. Iniziamo da quelle meno buone. Su tutta la linea del fronte, a partire da sud, si sono intensificate le azioni offensive e i raid con i droni. Come ho già accennato nei video precedenti, però, l'azione più intensa da parte russa in questo momento è concentrata nel tentativo di avanzare e catturare Vuledar, qui, dove vediamo alcuni vettori di avanzata, proprio il 15 settembre, qui e qui. E la risposta ucraina è stata attraverso l'uso di droni, FPV e artiglieria che hanno raggiunto i soldati russi che camminavano nelle retrovie, portando rifornimenti e, che vi devo dire, non è finita bene per loro. Vediamo, fra le altre cose, anche l'attacco da parte dei pezzi Imars molto in profondità, in questo centro di comando o di smistamento russo. Le immagini sono troppo forti, ovviamente non ve le posso mostrare, ma ecco, per descrivere l'effetto, i missili di questa artiglieria si aprono in migliaia di proiettili di tungsteno, quindi sono dei veri e propri dardi che colpiscono ad alta velocità. hanno effetti devastanti ad aria. L'unica cosa che posso dire è che, quantomeno, riservano una fine rapida ai soldati russi, a differenza dei piccoli droni FPV che invece tendono a portare delle piccole bombe che il più delle volte causano una lenta agonia. Quindi anche per questo si vedono così tanti video di soldati russi che decidono di accelerare la loro fine da soli. Perdonatemi, ma devo usare delle parafrasi per evitare problemi nella terminologia con YouTube. Andiamo un po' più avanti, sempre nella descrizione del fronte, poco più a nord, nella loro avanzata russa, scusate, verso Pokrovsk. Vediamo l'enorme quantità di video e di rapporti rappresentati da queste icone. Truppe in contatto, strike di artiglieria, bombardamenti aerei, mezzi distrutti, tutti questi rapporti risalgono agli ultimi due giorni. Chiaramente, devo sottolinearlo, questo è solo quello che possiamo dedurre e vedere, i rapporti dei video e foto che arrivano da entrambe le parti. È solo una piccola testimonianza del tutto indicativa di quello che sta succedendo in quello che è ormai definito il tritacarne. Le forze armate russe sono oggi a circa 5 km da Pokrovsk e come vedete continuano anche nei loro attacchi aerei e con missili in centro città. Ieri, tra l'altro, 16 settembre, questo medico militare fa un rapporto proprio dalla città e dice che sono arrivati per portare scorte mediche ai soldati che combattono al fronte pochi chilometri più in là. Dice, sono stata qui pochi mesi fa e la città era piena di vita, ma oggi, come potete vedere, i russi stanno prendendo di mira gli edifici civili. La città è completamente deserta adesso ed è una buona cosa che l'evacuazione è stata un successo, grazie soprattutto alle autorità ucraine, portando in salvo i bambini e così evitando che fossero deportati, come è successo a Kupiask e Zaporizia. E poi parla appunto dell'essere testimoni di quello che stanno facendo i russi alla città. Ogni città, dice, viene distrutta, prendono di mira le case ed è una situazione terribile. Dice, io non ho davvero idea di cosa possa mostrarvi qui in questo video per convincervi che l'Ucraina ha bisogno delle autorizzazioni per difendersi e continuare a discutere, a discutere, non serve a niente, servono azioni ad esso. Quindi, andiamo avanti, scorrendo le informazioni negli altri settori, non ci sono cambiamenti significativi per molti chilometri verso nord, fatta eccezione per tutte queste icone che, come vediamo, sono sempre lo stesso copione di bombardamenti aerei e artiglieria e che a cui gli ucraini rispondono con droni e le preziosissime I-Mars. Presso la cittadina di Torske, gli ucraini sono riusciti a liberare, fra l'altro, un'area di 50 chilometri quadrati qui. Poi, per centinaia di chilometri verso nord, un po' non si segnala praticamente niente, vediamo solo giusto alcuni interventi di droni ucraini, fra cui molti incendiari sulla fanteria russa. E poi parliamo della zona fra Piscane e Kolinivska. Koliniskoia, qualcosa del genere. In quest'area. In questa avanzata russa è chiaro che stanno cercando di raggiungere la strada, poco più avanti, per tagliare la linea logistica ucraina. Ma allo stesso tempo dovranno fare i conti con la possibilità di essere accerchiati e chiusi in una sacca. Passando poi alla città di Vojnchansk, in queste ultime ore sono continuate le azioni di bombardamento dell'artiglieria russa, a causa dell'avanzamento delle truppe ucraine nei quartieri. Al momento le forze russe sono rimaste solo nella zona periferica, a nord della città, che è in gran parte stata liberata. E non posso mostrarvi le immagini, ma questa splendida città adesso è solo un ricordo, è solo un cumulo di macerie, letteralmente. E ora passiamo alla regione di Kursk. Al momento il cuneo ucraino di proiezione sta continuando ad avanzare verso est. Fra questi due punti restano solo tre chilometri da coprire. Tutte queste icone rosse, che rappresentano un mezzo con una piccola fiammella sopra, sono appunto mezzi corazzati, blindati, trasportati a truppe, eccetera, che sono stati distrutti. I famosi 46 mezzi distrutti. Ci sono tantissimi video che testimoniano questa distruzione sistematica a cui sono andati incontro. Queste foto e video sono geolocalizzate. Vi passo il link in descrizione di questa mappa, dove potete vedere e consultare anche voi tutte queste informazioni. Ma ecco, se nel video precedente ho parlato di una scelta folle da parte russa di letteralmente di autodistruggersi in questa azione, è tutto testimoniato e documentato grazie a queste foto e questi video. Poi, la presenza di queste icone blu testimonia le attività ucraine di bombardamento aereo, di artiglieria e di supporto ai carri armati. Più a nord, l'avanzata ucraina ha ottenuto un altro villaggio in direzione nord-ovest, il villaggio di Vetreno. In tutta quest'area vediamo poi il servizio di consegna di granate dei droni ucraini. Non vi consiglio di aprire questi video perché alcuni sono raccapriccianti. La risposta russa sui territori occupati di Kursk in questi due giorni sono stati comunque raid aerei con le famose bombe elplananti, le FAB, sono bombe convenzionali munite di ali. E hanno colpito qui, qui e in quest'area. Mentre presso il villaggio di Borki, tutto a est, da parte russa sono arrivati dei video di un gruppo di soldati che gira casa per casa e in azione. In un video poi di un drone russo si vede una telemetria dove fa degli attacchi coordinati per coordinare, scusate, l'artiglieria. Notizia poi non confermata, presso il villaggio di Rysk, tanto a nord-ovest, qui, è stato evacuato dai russi, segno che questa offensiva russa di riconquista evidentemente non sta andando proprio benissimo. Quindi, questa è la situazione al fronte. Il tempo in questi giorni sembra abbastanza mite, almeno rispetto all'estate, un settembre non tanto diverso da quello che sta interessando anche la nostra penisola. Quindi, questi giorni prima del freddo e delle piogge saranno piuttosto importanti per le forze armate ucraine per consolidare eventuali posizioni nella regione di Kursk e anche per spingere e contenere i russi nel Donbass. Comunque, per darci un'idea generale di quello che è successo negli ultimi mesi, in questa immagine vediamo le proporzioni dell'avanzata ucraina in un mese, in blu, e di quella russa in un anno, in rosso. A proposito, prima che mi dimentichi, ho letto diversi post, commenti e alcuni video in cui persone hanno criticato l'operato delle forze ucraine nella regione di Kursk e molti hanno parlato di superiorità aerea russa in questi giorni. Ecco, vorrei fare una precisazione. Superiorità aerea è un termine militare non giornalistico che significa più o meno dominio del cielo, in realtà è un po' più complicato di così. Comunque, per capire questo concetto faccio degli esempi che aiutano insomma a capire di cosa stiamo parlando. Per esempio, gli Stati Uniti hanno il dominio del cielo sul loro territorio nazionale. L'Italia ha la superiorità aerea su tutta la penisola. Cosa significa? Che noi controlliamo il nostro spazio aereo e non permettiamo intrusi. Se c'è un intruso che non risponde a un IFF lo intercettiamo e controlliamo così il nostro spazio aereo si fa un lavoro di polizia. L'Ucraina oggi ha la superiorità aerea sul proprio territorio sì, in parte, nella misura però in cui non riesce a intercettare completamente la massa di droni e missili russi che cercano di penetrare questo spazio aereo. Ma allo stesso tempo da oltre due anni e mezzo dall'inizio del conflitto i russi non hanno mai avuto la superiorità aerea in Ucraina. cioè non sono mai riusciti a sorvolare impunemente con i propri aerei ed elicotteri all'interno dell'Ucraina. Infatti da oltre due anni si limitano a fare incursioni nella zona del confine e non a caso hanno adattato le loro vecchie bombe convenzionali con le ali con le bombe pralanti proprio per evitare di avvicinarsi al confine ucraino. Quindi militarmente parlando da un punto di vista di guerra moderna ma anche convenzionale anche nella seconda guerra mondiale era così insomma la guerra russa di invasione dell'Ucraina è partito subito come una buffonata tattica senza criterio e senza strategie e senza quelle collaborazioni necessarie fra aviazione forse di terra e scudi misilistici. di fatto la Russia non ha mai ripulito le difese misilistiche ucraine bonificandole nella missione SIAD per esempio non è mai riuscita a sorvolare lo spazio aereo ucraino con i propri aerei e anche se molti diranno che comunque la guerra alla fine è sempre una questione terra-terra con carri armati e soldati che avanzano bisogna non dimenticare che la componente aerea non è il tutto diciamo la componente aerea non è tutto in una guerra però non puoi comunque farne a meno perché ti serve sempre a spianare la strada alle truppe e soprattutto a proteggerle quindi senza componente aerea sei fregato letteralmente quindi è normale che in due anni e mezzo la Russia continua a mandare migliaia di soldati al fronte e perderli stupidamente e inutilmente in questo video anche per capire quanto appena detto ci dà un'idea della situazione c'è un elicottero ucraino che sorvola tranquillamente la regione di Kursk impunemente il che è inconcepibile cioè non viene intercettato da aerei da sistemi missilistici lui vola tranquillamente ed è un elicottero da trasporto è anche bello grosso quindi non è sicuramente invisibile e questo per me che un pochino di questioni militari ne so perché ne ho studiato a lungo queste cose per me è un segnale molto forte significa che qualcosa non va davvero nell'approccio tattico della Russia o che evidentemente cosa molto più probabile non ha più niente da schierare in campo che tutte le difese missilistiche rimaste alla Russia in questo momento sono schierate altrove a difendere perché ne so il sedere di Putin o qualche altro obiettivo che ritengono più importante ma anche queste comunque queste difese missilistiche non possono fare molto tanto meno i miracoli questa notte tanto per citarne uno l'aeroporto di Angels che è a qualcosa come mille chilometri dal fronte in questo aeroporto si segnalano degli incendi era in fiamme questa notte ed è la sede dei reparti di bombardamento strategico russo fra l'altro è anche un museo dell'aviazione dedicato proprio ai bombardieri strategici che così a guardare da google maps a occhio e croce è veramente piccolo poca cosa comunque passando oltre in questo video c'è un prigioniero russo che racconta la sua esperienza al fronte si chiama Alexei Naumsi è un video di tre minuti ve lo passo in descrizione se vi interessa lo sintetizzo un po' che ho fatto una traduzione lui dice se un soldato russo vuole evitare di essere mandato avanti può farlo basta pagare se vuole una licenza di 15 giorni basta pagare pagare è la normalità vuoi mangiare bene paga poi ci sono comunque le percosse sistematiche che alla fine ti piegano e così poi vieni trasportato fino al fronte quello dove cadono i proiettili dove ci sono momenti in cui si viene costretti ad andare avanti che altrimenti ti sparano da dietro e ti ritrovi con gli ucraini che ti lanciano addosso le granate con i droni e ogni tipo di altra cosa ma comunque i soldi sono la chiave di tutto per qualsiasi cosa ti chiedono soldi per qualsiasi cosa se fai qualcosa di sbagliato devi pagare se guadagni devi pagare così inizi a chiamare tua moglie e i tuoi parenti a casa chiedendo di spedirti soldi e tua moglie ti chiede al telefono perché sei andato lì sei andato lì e mi chiedi soldi invece di guadagnare soldi e dice il comandante era lì e ci diceva continuamente dateci i vostri soldi tanto non ne avete bisogno prima di morire e lo ha detto a tutti quanti guardandoli negli occhi durante l'assembramento delle truppe ma non li ha presi lui di persona ha delegato un suo sottoposto che si occupava di raccoglierli il contratto comunque che abbiamo firmato era molto chiaro diceva se ti lamenti non puoi provare niente puoi stare certo che te ne andrai stanotte insomma questo è un video che racconta la situazione di un soldato russo medio per quello che comunque posso confermare di aver visto già dozzine e dozzine di volte in altri video le sevizie il nonnismo le percosse i soldati che non hanno niente da mangiare insomma se li vediamo andare avanti così come degli zombie è perché sono costretti a farlo perché altrimenti vengono sparati da dietro comunque è la completa disumanizzazione del soldato e siamo nel 2024 la russia ci mostra appunto delle truppe letteralmente senza volontà senza risorse con la loro vita che non ha nessun valore nel frattempo comunque in televisione a mosca va tutto bene va alla grande proprio la televisione moscovita che rete 4 con salvini con cui ho aperto oggi a confronto tipo era il tempio del giornalismo il 15 settembre esordiva così sull'argomento famosissimo di minacciare l'occidente con le atomiche no? perché è mainstream in Russia topic interessantissimo se pensiamo ai loro telespettatori che probabilmente sono le vecchiette russe sedute in poltrona quelle che almeno possono permettersi da televisione comunque nell'aria lui dice questo personaggio non so chi sia dice nell'aria di Novaya Zemlya dove si fanno i testi atomici sarebbe bello costruire una copia di Londra o almeno della città di Londra e una copia di Washington anche il centro lì dove ci sono gli operischi e la casa bianca e poi dovremmo lanciare un test usando almeno una delle pulava quelle contestate multiple indipendenti che possono volare dall'Atlantico del nord fino alla zona di Novaya Zemlya ecco vi mostro l'ipotetica traiettoria questo genio secondo lui se se gli Stati Uniti vedessero partire un missile nucleare non annunciato dall'oceano cosa accadrebbe secondo questo tizio cioè follia vabbè ma andiamo avanti e dice e che così colpiscano appunto Londra e Washington con l'equivalente di 150 chilotoni e così 3 miliardi di utenti su youtube possano vedere l'effetto che fa su una città dell'Inghilterra e degli Stati Uniti e quanti di questi missili hanno i nostri sottomarini continuano queste testate contiamo dice contiamo queste testate per capire quante sono necessarie per colpire ogni centro urbano dell'occidente e sai penso che dovremmo iniziare da questo perché questa gente sta parlando di noi questa gente per primi e soprattutto gli inglesi stanno lì seduti comodi dall'altra parte dello stagno è bellissimo il commento del cronista a questo punto che dice ma sei sicuro sei sicuro che siamo capaci di costruire delle copie di Londra e Washington in tempo e il tizio dice sì io penso che possiamo costruire delle copie di Londra e Washington in due o tre settimane abbiamo alla fine migliaia di immigrati che non vogliono morire per il nostro paese possono costruire tutto quanto con il legno e così la città di Londra Buckingham Palace e il Big Bang mandiamo tutto quanto in fiamme e brucerà tutto in modo così magnifico che terrorizzerà il mondo questo è quello che penso lo so forse non dovremmo farlo ma io penso di sì perché come ho detto dall'altra parte pensano che non saremmo capaci ok quindi cari amici la cosa più triste di questo spezzone di televisione russa non sono queste affermazioni ridicole di una gravità disarmante ma appunto forse probabilmente la cosa peggiore che ha detto è il fatto di mandare gli immigrati a costruire città finte qui cioè praticamente al circolo polare che tipo la Siberia a confronto cioè è una terra di vacanza ma il fatto sconcertante poi è penso che questo signore o in Russia non hanno mai visto un solo film di Michael Bay evidentemente o che ne so la saga di Terminator tanto per citarne uno c'è Hollywood che ci mostra queste cose da tipo 40 anni ma ciao proprio non c'è bisogno di costruire città al circolo al circolo polare artico e con questo è tutto comunque fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti della televisione russa quindi se volete sostenermi qui sotto trovate i pulsanti di youtube per iscrivervi se non l'avete ancora fatto attivare la campanella e lasciare un mi piace e come sempre un abbraccio alla prossima